...di un'idea, l'armonia che aggiusta la realtà, è Miss Italia, per te, dove si, per dopo di magia... Sarà una bellissima serata perché è una finale regionale. Sappiamo benissimo che le finali regionali avranno l'opportunità di scegliere una ragazza, tra le tante, e questa sera questa ragazza vincerà un titolo molto importante, il titolo di Miss Givova Sport. Ricordiamo che Givova è sponsor ufficiale di alcune trasmissioni di grande successo, come per esempio il grande fratello VIP e ricordiamo anche l'Isola dei Famosi. Quindi l'opportunità oggi di una ragazza di potersi mettere in evidenza, con questo titolo, attenzione, la ragazza addirittura potrà partecipare alla semifinale nazionale di Miss Italia. Pazzesco! Bene, andiamo avanti, andiamo... Non scappare, vieni! 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 Grazie a tutti. Maria Vico, qui in provincia di Caserta, proclama la sua regina, la sua vincitrice, Miss Sport Givova Campania e la concorrente con il numero 7, Gabbiana Duccia! Fabiana Duccia ha vinto! Fabiana Duccia alza le braccia in giro in segno di vittoria! Fabiana parte per la semifinale nazionale, un applauso da clore! Fabiana Duccia, amici degli ospettatori dell'antegnata, sindaco, vice sindaco, forse, sindaco Fascia! Fabiana Duccia! Aspetta, facciamola qui, davanti, davanti alla telecamera, davanti ai fotografi, andiamola a incolonare! Che cosa sta succedendo? Guardate che bello! Grazie Santa Maria Vito, grazie di cuore per quello che ci sta trattando questa sera! Sì, allora mi chiamo Fabio Nabuoccio, ho 20 anni, vengo da Terzigno, un paese in provincia di Napoli, sono davvero contenta di questa vittoria, anzi è davvero quello che è un meglio scatto per ciò che ho passato e per coloro che non mi hanno amato. La serata è stata molto bella, il pubblico ha riscosso bene, Santa Maria Vito ha dato grandi soddisfazioni, nonostante la serata è stata posticipata in confronto a quella di venerdì, perché la serata ufficiale era venerdì, l'abbiamo posticipata ad oggi ed è stato un risultato bellissimo. L'amministrazione ha dato tanto per poter realizzare questa serata, gli sponsor si sono impegnati tanto con il loro contributo, possiamo dire che portiamo a casa un risultato molto molto importante. È stata una splendida serata, terminata con questi bellissimi fogli d'artificio, ringrazio il Comitato Festa Sant'Alfonso, tutti gli sponsor che hanno permesso questa serata e lo staff di Miss Italia con Alfonso Crisci. Le ragazze si sono messe in gioco, ho avuto tanto coraggio e voglia di vincere e ha vinto sicuramente la bellezza, l'intraprendenza e il carattere e mocca al lupo a tutte! Una serata straordinaria che la Miss Italia, l'organizzazione ha voluto regalare alla nostra città, per cui voglio permettere di fare gli auguri alla numero 7, ma in particolare a tutte le ragazze e gli auguro che tutti i loro successi possano essere raggiunti, perché sono tutte ragazze che si sono messe in mostra e pertanto meritano di fare strada, carriera. Grazie a tutti!